Signori, rapido video per solo, esclusivamente per comunicarvi l'ufficialità, domani, domenica 11, aprile, live, calcio mercato invernale, si farà, signori, si farà, e molto probabilmente da, se andrà bene anche questa live, se andrà come piace a me, confermerò ufficialmente che ogni domenica la puntata sarà live. Oltre questo, voglio anche, già che ci siamo comunicati, un'altra comunicazione ufficiale importante, dalla prossima settimana a parte la Master League su PES 2021, e sarà, sarà, non dico niente, sarà, non vi anticipo nulla, vi dico soltanto che è una carriera che potevo fare solo su PES, non vi dico altro. Detto questo, molto delicemente, saluto tutti quanti voi, e alla prossima.